... Vabbè, finiamo il giro, Filippo è primo, chi è secondo? Io sono bravo, bravo, ma che sale affagio, è fantastico, se non gli va bene il tuo modo va bene il tuo muore, sia un particolare che non è un modo diverso, ma bene, vuoi dire? Sì, ciao! Salve a Dio, vai, finito? Vede, allora, questo sarà un spettacolo di ballo con Giulia e Paolini, brava, Giulia, Chiara e Martino, bravo! E' comodo, è comodo, è comodo, è comodo, diventa autonomo, senza fare un po' il fenomeno, tutti vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno, tutti vogliono un fenomeno, ma se puoi diventare un fenomeno, cagliari, manchi, stodomino, se non gli va bene il fenomeno, vieni bene! Vai Samu, bravo, 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 bravo! Vai Paolo! Dai! Guarda Luca! 10 centesimi Più il coso Ce l'avevo di già a quelli Buon sacco? Ce l'avevo di già a quelli Già sto al 50, dai No, rimedi No, Matti! No, dai, non ci provo a farmi la foto Sta a fare il video No Vai ora che ci devi mettere Non crediamo rumi Ci ho due di polla Ci devo ricordare Ciao, ciao